Come? Penso che bene! Cosa hai fatto ieri sera? Ieri sera sono andato alla menza e poi sono andato... Qua? In menza? Alle sette e mezza. Sette e mezza. E dopo ci siamo... io ho incontrato delle persone dell'IMT per andare al calcetto. Chi? Chi? Chi persone? Quali persone? Quali? 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 Quali persone? U Sono andato con AJ e con Marina Due 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 Tu sei andato? 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 Partito di calcetto? Sì Sì Grande E poi? E poi sono andato a casa con un gruppo di persone e sono andato a letto. So cosa ha fatto in casa? Sono andato a letto. E io andato? Andato. Andato. Da Da E Da Da